13 marzo 2020. Adolfo Lettieri, tappezzieri di Grosseto, insieme al figlio Alessio, iniziarono a confezionare mascherine che regalavano a tutti. Questo fatto suscitò tantissimo clamore, tanto che da tutto il mondo Adolfo venne contattato. I servizi suoi hanno avuto milioni di visualizzazioni anche sui social. A distanza di un anno, com'è cambiato Adolfo Lettieri? Vengono a portarmi lavori che non sono da fare, ma solo perché le devo fare io. Vengono apposta per quello che ho fatto, che poi a volte mi mettono anche un po' in soggezione. Quante mascherine ha confezionato Adolfo Lettieri e Alessio? Siamo arrivati a una cifra di 35 mila e questo grazie, veramente grazie alle sarte che mi hanno dato una grande mano, se no non si andava avanti. Ho fatto tutto con le mie spese, 35 mila mascherine sono tanti soldi. Diciamo che quando ho visto che la gente aumentava la fila e quindi a me mi aumentavano debiti, però non me ne fregava niente perché vedevo che la gente era contenta di ricevere la mascherina. L'unico aiuto che ho avuto è la Fondazione Bertarelli, alla fine mi hanno fatto una grande donazione. Dalle istituzioni ti aspettavi qualcosa, un grazie? Almeno, almeno un grazie, però qui non è venuto mai nessuno a dire grazie per quello che ha fatto. La popolazione, sì, continua oggi, vengono, grazie, commossi, mi abbracciano, però alle istituzioni io non ho sentito nessuno.